Questi discorsi del tipo visual thinking, perché poi è chiaro che tutti vogliamo vedere fine del conflitto, tutti vogliamo pace, eccetera, eccetera, ma è diventato ampiamente chiaro che il negoziato non è a vista. Questi discorsi fanno male aziende italiane perché suscitano in loro la speranza che comunque o si possono evadere le sanzioni oppure il negoziato sarà dietro le porte e adesso si può fare business as usual. La guerra durerà altri 3, 4, 5 anni. Questo è quanto si dice quando si va in Ucraina, bisogna andare sul posto. Quando si va in Ucraina e ti dicono che noi siamo pronti per altri 5 anni, vuol dire che la guerra dura, vuol dire che non bisogna promettere le cose che non si accadranno. Però la prospettiva è terribile di questa lunghezza. Beh, ma nessuno ha promesso che la guerra finirà domani mattino. Cioè, secondo me, Michele, stiamo dicendo, sostanzialmente stiamo dicendo la stessa cosa, perché se lei, giustamente, che è molto ben informata, dice che in Ucraina si prevede una guerra che continuerà ancora per 4-5 anni, la domanda che le faccio io, che è sicuramente esperta, lei è, ma l'Ucraina è in grado di resistere in queste condizioni per altri 4-5 anni? È proprio una domanda la mia. Sì, allora, l'Ucraina doveva cadere in tre giorni, poi non è caduta. Gli titoli che vedevamo poche settimane fa, che era a un passo da un crollo. Quindi, sì, l'Ucraina è in grado di tenere la guerra nel caso degli aiuti degli occidentali, e non mi sembra, con, insomma, imperdonabile ritardo che è arrivato agli aiuti americani, però come si mobilita anche l'Europa proprio in vista a quel ritardo degli aiuti americani, non mi sembra che si abbandona l'Ucraina, poi alla Russia, in vista anche tutti gli investimenti che sono fatti in questi due anni. Quindi la raccomandazione che io farei alle aziende italiane, perché Panamaro non sarà di aiuto italiani, se lo chiama qua, è di lasciare il mercato russo e diversificare i mercati, perché guardate che il negoziato, il massimo che può portare, mettiamo che l'Ucraina crolla domani, il negoziato, quello che può portare, è il cessate fuoco, ma basta, non porterà il ritiro delle truppe delle russe. Finché non ci sarà il ritiro delle truppe, le sanzioni rimarranno, quindi le condizioni per le aziende italiane non cambieranno. Beh, cessate il fuoco, però sarebbe già un grande traguardo. C'è una domanda che vorrei fare.